Ciao grandissimi benvenuti su Food Stories, oggi andiamo a vedere un po' un aggiornamento generale sulle mie piante di avocado quelle che appunto erano esposte più a sud, nello scorso video vi ho fatto vedere insomma tutti quelli che erano un po' esposti a nord che erano messi al freddo, al vento, all'umidità, quelli che diciamo erano più sotto stress per farvi vedere proprio i risultati veri e propri oggi vi faccio vedere invece tutti gli altri che sono appunto nella parte più calda, più calda della mia casa, ecco esposti a sud la prima parte che vi faccio vedere è sicuramente questa che appunto era quella che era ributtata dal seme sottostante era veramente messa molto bene sinceramente durante tutto l'inverno, non ho capito bene perché si è comportata in questo modo ha perso tutte le foglie, ha fatto seccare la punta e però sta ributtando un po' dalla parte più bassa vedremo un po' quello che riuscirà a fare. Un'altra pianta che vi avevo detto era una delle mie preferite durante l'estate è quella sicuramente tra le peggiori, ha sofferto un grosso marciume radicale durante tutto l'inverno come vedete sta cercando di ributtare però ha tutta la punta apicale completamente nera e secca e tutti i germogli, tutte le gemme sono ripartite dalla parte bassa come vedete hanno tutta la punta un po' secca, questo è sinonimo del fatto che sta ancora soffrendo molto di marciume radicale ora proverò anche a cambiarle un po' il terriccio e vediamo che lo riuscirà a fare un'altra pianta, questo mi pare è un avvocato, è uno zutano che era partito molto bene durante tutta l'estate era andato molto bene e poi ha avuto anche lui un piccolo problema di marciume radicale che come vedete ha fatto seccare tutta la parte superiore però sono convinto che riuscirà a ributtare da sotto perché come vedete la parte basale è molto molto verde e credo che insomma riuscirà se supererà questo problema di marciume radicale a ributtare a creare anche questo una bella pianta c'è anche appunto un germoglio qui è il limite tra il secco e il verde quindi spero che comunque anche questo riesca a sopravvivere e riparta molto bene quest'altra invece è un'altra pianta di avocado ass che appunto ha avuto sempre problemi fin dall'inizio non è mai andata e come vedete è morta forse riuscirà a ributtare dalle radici questo non lo so, la vedo molto male quindi credo che proprio questa sia andata ormai e come notate questa era una delle varie piante a cui io l'avevo tagliato insieme per farla germinare prima sono partite tutte benissimo, sono andate tutte velocissime soprattutto all'inizio subito dopo come vedrete anche con un'altra pianta hanno avuto dei problemi, quindi non so se questo taglio poi possa provocare alcuni problemi a queste piante quindi vediamo quello che farà ma probabilmente questa ormai ragazzi ci ha lasciato questa è l'altra pianta a cui ho tagliato appunto il seme e come vedete anche questa ha avuto grossi problemi anche questa era partita benissimo, benissimo partita benissimo, subito dopo marciume radicale, grossi problemi ovunque e durante tutta l'estate è stata praticamente senza foglie con questa punta che era quasi completamente seccata come vedete adesso è ripresa molto bene sta buttando un bel germoglio dal basso, sono molto contento e anche qui nella parte superiore abbiamo altri due germogli veramente molto belli quindi spero che questa qui riesca a riprendersi e ad avere insomma una bella spinta in più durante questo periodo estivo inoltre l'avvocato Pinkerton mi è sempre piaciuto molto quindi spero insomma che se la caverà molto bene quest'altra pianta invece era quella pianta di Zutano che era messa un po' maluccio, aveva avuto un po' di marciume radicale qualche piccolo problemino molto giallognola che mi piaceva poco rispetto all'altro Zutano che vi ho sempre fatto vedere che era quello più bello di tutti però ecco mi ha sentito subito proprio in partenza, in primavera appena ripartito è diventato subito verdissimo e poi ha fatto questa vegetazione molto importante con tutte queste varie gemme al di sotto che sono partite veramente molto forti quindi pianta che è veramente bellissima spero che continuerà così per tutta l'estate e insomma anche questa è una pianta sicuramente molto molto bella e molto diciamo vigorosa ecco veramente molto vigorosa rispetto alle altre oltre a tutte queste ragazzi ne avevo anche altri due non so se vi ricordate lo Zutano quello bello la mia pianta assolutamente migliore e poi ne avevo un altro con tutte le foglie ondolate in un piccolo vaso ecco questi due mi sono stati sottratti dalla mia ragazza che appunto li voleva però insomma non vi dico nient'altro insomma vi porterò un altro aggiornamento anche su quelle piante lì e quindi niente ragazzi insomma questo è l'aggiornamento di tutte le altre piante di avocado ci sono anche altre due vasi diciamo con tutta una serie di semi tra cui quelli che mi avevano regalato di alcuni avocado calabresi rossi quindi ho detto proviamo tanto quelli sono stati sempre lì in Calabria probabilmente sono un po' più agevolati a vivere nel nostro lima quindi li ho messi in terra e vediamo se riusciranno a nascere magari vi metto qualche video qui mentre sto parlando e poi un altro vaso più tondo da basso e tondo dove appunto avevo messo altri semi di avocado anche lì probabilmente tra un po' cominceranno a crescere quindi vedremo anche lì come andrà la situazione e quindi niente ragazzi dai mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciatemi un like fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su foodstories ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.